E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zeno Nair Penso che non faccio un video ma vi faccio vedere oggi un pacco che mi è appena arrivato Se ci riesco ad aprirlo con una mano Aspettate un attimo Se non qui si fa notte Un altro taglietto qui Riesco, ok Un altro qui, perfetto Taglierino e chiuditi Perfetto Apriamo il tutto Vediamo di che si tratta Vediamo, vediamo di che si tratta Olè! Delle nuove cuffie che recensirò i primi di maggio I primi di maggio Vediamo di che cuffie si parla Eccole qui Molto belle, molto belle RHP5 Flashback Belle, belle, belle Da recensire, da recensire Vi lascio con questo piccolo video Ciao! Ciao!